Doppia sconfitta per il Premier Boris Johnson in Parlamento. I deputati britannici hanno bocciato la sua mozione per indire elezioni anticipate e hanno detto sì al disegno di legge per bloccare una Brexit senza accordo, il no deal. Il testo è stato approvato, il via libera definitivo potrebbe arrivare entro venerdì. Tutto nel corso di una seduta parlamentare molto agitata. L'offerta di elezioni oggi è come la mela offerta della strega cattiva Biancaneve, ha detto il leader dell'opposizione Jeremy Corbyn a Johnson, perché quello che sta offrendo non è una mela, non è un'elezione, ma il veleno del non accordo. Jeremy Corbyn è diventato il primo leader dell'opposizione nella storia democratica del nostro paese a rifiutare l'invito alle elezioni e dovrebbe riflettere sulla sua posizione, ha attaccato Boris Johnson in una posizione sempre più scomoda lui stesso a un mese e mezzo dalla sua nomina a primo ministro.